Il professor Ska è belga di nascita, è nato in una città di un mio carissimo amico, direi maestro e quasi collega, l'attuale cardinal Julian Ries, che quando io studiavo a Lovagno era presidente dell'istituto orientalista e mi invitò proprio a darlo a colazione due volte, andammo in macchina da Lovagno, anche era ancora a Leuven e poi in Leuven la Neuve, e il padre è nato appunto in Belgio, si è formato in Belgio e in Germania, a Francoforte, e poi ha conseguito il dottorato proprio a Roma, tra la Gregoriana e il pontificio istituto biblico, dove oggi è professore ordinario di esegesi dell'Antico Testamento e quindi insegna criticamente, scientificamente, ovviamente con un taglio che è anche teologico, l'Antico Testamento, quella che è il Tanakh ebraico, la Bibbia ebraica, prima che arrivi l'annuncio cristiano nel Nuovo Testamento. Adesso io non voglio rubare più tempo e lascio la parola al professor Paolo Gianluis Cavani. Nel caso poi dopo vogliate intervenire, dovete chiedermi in questo microfono, che voglio che tutti sentono i vostri interventi. Buonasera a tutti quanti, grazie tanto per l'invito a venire a parlare a Verona, a ritrovare Verona e un certo numero di vecchi amici, a parlare della Torre di Bavaria. Ho parlato a Verona di molte cose, ma non ho mai parlato della Torre di Bavaria. Il mio proposito è di proporre un'interpretazione non personale, forse un po' originale o meno abituale della storia della Torre di Bavaria. Conoscete la storia, si trova nel capitolo 11 del libro della Genesi. L'umanità formava ancora unità, tutti gli uomini formavano un solo popolo e decisero di costruire insieme, per non disperdersi, per non perdersi, non disseminarsi su tutta la superficie della terra, decisero di costruire insieme una città e una torre. E la torre, secondo il testo biblico, doveva raggiungere il cielo. Vedremo che forse non si deve necessariamente interpretare il testo in questo modo, ma un attore molto alto, diciamo così. Ed è il Dio, il Dio del libro della Genesi, viene a vedere quello che sta succedendo e dice, ma come mai stanno costruendo questa città, questa torre, no? Potrebbero riuscire in tutte le loro imprese? e dice, bisogna porre fine a questo progetto e confonde le lingue, quindi non riescono più a capirsi e quindi si disperdono. Il Signore disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la città si chiama Babbele e si fa un gioco di parole che evidentemente si capisce soltanto in ebraico, no? Perché lì il Signore confuse la lingua di tutta la terra e da lì il Signore disperse su tutta la terra, no? Babbele fa pensare a un verbo ebraico che significa confusione. Allora, il racconto della storia di Babbele ha certamente ispirato molti pittori, anche molti scrittori, anche poeti e poi è diventato un simbolo, un simbolo di confusione. Una torre di Babbele significa un luogo dove nessuno si capisce, oppure lì dove non si capisce più niente si dice siamo una torre di Babbele, è diventato una torre di Babbele. Adesso vi dico che ci sono almeno tre linee di interpretazione, no? Durante la storia degli esegesi, già in antichità gli esegeti o coloro che hanno interpretato il testo biblico, l'hanno interpretato in almeno tre modi diversi. Poi ci sono tutte le sfumature possibili, immaginabili, ma queste tre direzioni principali. La prima interpretazione, quella forse più comune, quella più conosciuta, è di dire che abbiamo qui un racconto, uno dei tanti racconti dell'inizio del libro della Genesi, che descrive un peccato e il suo castigo, delitto e castigo. Avremmo il primo esempio nel capitolo 3 del libro della Genesi, il peccato, la colpa dei primi genitori, castigo e sono cacciati via dal giardino di Eden dal paradiso. secondo esempio, il delitto di Caino, che è anche lui cacciato via, è un ramingo sulla terra. E poi c'è la storia del diluvio, l'umanità è corrotta, castigo e il diluvio. Avremmo un altro esempio, quindi delitto e castigo, ma qual è il delitto? Sarebbe l'orgoglio, la presunzione di un'umanità che vuole raggiungere con le proprie forze il cielo, costruiscono una città e una torre la cui cima doveva essere in cielo. L'umanità cerca di raggiungere il cielo. Avremmo qui un esempio di quello che è la religione, secondo Dietrich Bonhoeffer, la religione è lo sforzo dell'umanità di raggiungere Dio, mentre la fede è Dio che è raggiungere l'umanità, è la vera religione, si potrebbe dire così, o il vero atteggiamento di fronte a Dio, secondo Bonhoeffer, sarebbe la fede e non la religione. Accettare il dono di Dio è la mano tesa di Dio, non provare a raggiungere Dio con le nostre proprie forze, quello che comunque è impossibile. Quindi avremmo un racconto di delitto e castigo e il delitto sarebbe l'orgoglio, l'orgoglio dell'umanità che vuole diventare come Dio, che vuole raggiungere il mondo celeste e avremmo un altro esempio di quello che sarebbe stato, secondo alcuni, almeno il peccato della prima cocca di Adamo e Eva, hanno voluto diventare come Dio, è quello che dice la famosa serpente. Quella interpretazione è molto antica, la ritroviamo già nel libro dei Giubilei, il libro dei Giubilei non fa parte della Bibbia, è un cosiddetto apocrifo ebraico che riprende il libro della Genesi e racconta di nuovo il libro della Genesi aggiungendo una serie di commenti, è scritto nel secondo secolo a.C. Nel secondo secolo a.C. si parla già di quel peccato di orgoglio, di presunzione e del castigo di Dio che confonde le lingue e quindi impedisce all'umanità di raggiungere. Seconda interpretazione, anche molto antica, risale a Flavio Giuseppe, il primo secolo dopo Cristo, è di dire il peccato, invece di nuovo un peccato, il peccato è un castigo di Dio, la confusione delle lingue, la dispersione per tutta la terra, però il peccato non è più un peccato proprio contro Dio, il peccato più profano, sarebbe l'imperialismo. Questo è basato su un'analisi accurata e rigorosa del linguaggio, di alcune espressioni del racconto, specialmente della prima frase. La prima frase si traduce così, normalmente tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Secondo diversi eseggeti, infatti Emanuele Testa, un antico, un commentario, il libro della Genesi dell'inizio del secolo passato, il mondo del Novecento, non è così antico, dopo Cristo, Emanuele Testa, la Bibbia di Marietti, dice che quella frase, avere una sola lingua, letteralmente un solo labbro, un solo labbro, non una sola lingua, solo labbro, e uniche parole, è una frase che si ritrova nella propaganda regale del regno neoassiro, e poi si ritrova in diversi testi della letteratura mesopotamica. E cosa significa? Significa nel regno di un re di Assyria, un re di Babilonia, c'è concordia quando tutti dicono le stesse parole e c'è un solo labbro, tutti d'accordo. Ora, significa che il re ha messi tutti d'accordo, gli ha messi tutti d'accordo, cioè ha imposto la sua autorità, anche per la forza, col suo esercito, ha messi tutti d'accordo e fa regnare la pace. Grazie a tutti.